Salve a tutti, questo è un video informativo in cui vi illustrerò brevemente qual è il nuovo servizio messo a disposizione da noi del Centro Studi Futura di Vallo della Lucania. A breve partirà un servizio di messaggistica online per quanto riguarda l'assistenza sulle vostre pratiche, perché appunto in questo momento, in conseguenza soprattutto dell'emergenza sanitaria, proprio per questo, questo è il motivo principale per cui nasce il progetto, in conseguenza di quello che sta accadendo, molti degli uffici adibiti alla soluzione di questi problemi, in questo momento è chiusa la maggioranza di questi uffici. Di conseguenza vogliamo intervenire tramite questo servizio, potete contattarci tramite messaggio sulle nostre pagine social e noi potremo rispondere a vostre domande, dubbi, dal punto di vista burocratico, nell'ambito della previdenza fiscale, della tassazione, qualsiasi tipo di dubbio che riguarda appunto lo svolgimento delle vostre pratiche. Un servizio ovviamente che non nasce solamente in conseguenza dell'emergenza sanitaria, perché ovviamente nasce anche magari per dare una mano a chi non ha la possibilità di raggiungere gli uffici, anche quelli che sono aperti per magari problemi fisici o problemi personali, o magari perché le pratiche, come molti di voi sapranno, sono da inviarsi online nella quasi totalità e chiedere a una persona magari più anziana di inviare una pratica online, comprendiamo che può risultare come una problematica. Anche per queste situazioni potremo intervenire rispondendo alle vostre domande sulle nostre pagine social, le pagine social del Centro Studi Futura di Vallo della Lucania, che saranno attive dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì, a partire dal 14 di settembre del 2020. Quindi vi aspettiamo dal 14 settembre per rispondere alle vostre prime domande.